Benvenuti a quest'ultimissimo episodio della nostra carriera allenatore con il Bradford Su FIFA 22 quest'oggi Finalissima di Champions League contro il Barcellona Per agguantare quel triplete che abbiamo cercato per tutta la stagione Perché sì, dopo aver vinto l'FC Cup contro il Watford per 2-1 a Wembley Dopo aver vinto la Premier League ai danni del Chelsea Ci manca solamente la Coppa delle Grandi Orecchie E speriamo raggiungerla in questa finale contro il Barcellona Prima di andare avanti, oltre ad avvisarvi che ovviamente le labi su Twitch continueranno Anche senza credere porteremo qualche continuo diverso al solito come NBA 2K Qualche altro gioco per divertirci Anche Just Chatting ovviamente per conoscerci meglio E oltre a questo ricorda anche di seguirmi su Instagram I'm not the king Prima di sempre aggiornare di conoscervi al 100% Vi avviare il canale per rispondersi sempre di più Allora, che dire, c'è un po' di tensione, eh C'è un po' di tensione Dobbiamo essere sinceri Perché comunque non ci giriamo una finale di Champions League da due FIFA Quindi non abbiamo più quel... Non sappiamo più come comportarci Siamo un po' fuori luogo Quando davanti a me, come dicevo in live Ho il telefono con vari discorsi da fare Ho davanti a me i fogli per quanto riguarda le squadre Il loro percorso in Champions, eccetera Che dire, se non... Andiamoci a fare la formazione per questa finale di Champions League Contro il Barcellona Fine partita parleremo anche di Islanda Il discorso Islanda per quanto riguarda il Mondiale Molto ovviamente non faremo più il Mondiale con l'Islanda Poi vi spiegherò anche il perché Ma credo che ci possiate arrivare abbastanza tranquillamente Però ne parleremo ovviamente a fine live Finale di Champions contro il Barça Noi scendiamo in campo con questo undici titolare Pontus d'Alberini porta come capitano Max Arons terzino destro Guay e Boyd come difensioni centrali Lewis sulla sinistra Turbul e Doyle a centrocampo Rodgers ed Edwards sulle fasce Cook di all'unica punta Che sarà ovviamente il Golem Jonathan Golan 4-2-3-1 stretto Che poi in realtà è un 4-4-1-1 Andiamo a vedere Si gioca le stati da luce L'arbitro è Wesley Van Gorten Dunque l'olandese Arbiterà questa partita Alle ore 20 il 26 maggio 2029 Difficoltà ovviamente estrema Con sliders modificate Ve le faccio vedere così Che state tranquilli Queste qua sono le sliders A favore della CPU Più poi non abbiamo cambiato nulla Se non l'errore controllo tocco di prima Quindi direi che è arrivato quel momento Si va Per Barcellona Red for City Siamo partiti sette anni fa Dalla League 2 Sette lunghissimi anni Tra fallimenti e successi Sette lunghissimi anni Senza un trofeo Poi però Come in un film Ecco il plot twist Due trofei in una settimana Prima l'Effekup per 2-1 A Wembley contro il Watford Successivamente La Premier League Ai danni del Chelsea Dunque back to back Di soddisfazioni Ora però Manca una sola coppa Per il triplete È la coppa dalle grandi orecchie Per entrare definitivamente Nella storia Ed eccoci Dalle sali da lusse Per Barcellona Red for City L'ultimo atto Di questa carriera Che ci accompagna All'inizio FIFA Carriera che ci ha accompagnato Che ci ha fatto sognare Come diciamo in precedenza E che ci ha fatto anche dannare Visto che per sette anni Non abbiamo vinto Nessuna coppa Nessuna competizione Eccole qua Le note Di questino Di questa Champions League Che abbiamo sentito Per tutto quest'ultimo anno E che sentiamo anche In questa finale Che speriamo ci regali Delle emozioni Si gioca le stadie da lusse Lo stadio del Benfica Stadio che ha ospitato Già due finali Di Champions League E dopo andremo a vedere i quali Il Barcellona che gioca con Ter Stegen In porta Ecco qua anche Quella che è la panchina Comunque di livello Per questo Barça Difesa a quattro Con Rensh Upamecano Timber E Davis Dominguez De Jong E Valverde A centrocampo Dembélé Batei E Marcos Paolo Invece il tridente Offensivo Tanto Ajax In difesa Visto che Sono presenti Rensh E Timber Tanto Olanda Anche perché Vi è De Jong Come capitano Di questo Barcellona I nostri Bantams Che si schierano in campo Con Dalberg In porta Difesa a quattro Composta da Max Arons Luis Boyd E Margui A completare ovviamente Il reparto difensivo Doyle Terbola a centrocampo Rodgers Cook Ed Edwards Dietro L'unica punta Che sarà Ovviamente Come sempre Il golem E Stadio La Lusca Ha già ospitato Due finali di Champions Come dicevamo in precedenza La prima Dal Del 2013 2014 Tra Real Madrid Ad La Comunità Vinta da Dal Madrid Per 4-1 Dal Real Madrid Per 4-1 Ovviamente Poi quella del 2019 2020 Tra PSG E Bayern Monaco Si è partiti Per Barcellona Bradford City Ultimo atto Di questa carriera Arons Doyle Kai Cook Per il pallone Boyd Verso Jamal Lewis Per l'altro Anno di costruzione Di questo stadio Dalus Che è il 2003 Soprannominato Dai tifosi del Benfica A Cattedrale Ossia la Cattedrale Prende il nome Dalla Chiesa Di Nossa Signora Dalus Che si trova Proprio nei pressi Dello stadio Qui Arons Buona per Morgan Rogers Facciamo girare il pallone Tra i fischi Dei tifosi Del Barcellona Jonathan Golan Chiuso da Valverde Davis Valverde L'ex Real Da Marco Spauro Proprio il giocatore Da seguire Di questa finale Batei Capo cannonale Del Barcellona Con 4 gol In questa competizione De Jong Dentro Per Geron Batei Attenzione Al francese Dentro per De Jong Bravissimo Ben Boyd Di chiusura Adesso Giamman Lewis Sbaglia totalmente L'appoggio Verso Marco Sedovar Se non riesce A tenerla in campo Purtroppo ci ha abituato Lewis In questi anni di carriera Questi passaggi Abbastanza sconclusionati Batei Contro Boyd Ancora Lewis Stavolta lontana Verso Golan Con la testa Però De Jong Di chiusura Dembele Giamman Lewis Prova ad accelerare Contro Contro Lewis Per l'appunto Ma lo chiude perfettamente Stavolta Il nord irlandese Edwards Spazio per affondare Il colpo Allora andiamo da Jonathan Golan Lui spazio ce l'ha Allora Golan approfitta Golan con il destro Da fuori Traversa E Kai Cook Steso Steso qui da Timber E lì attenzione Perché se dove c'erano Gli estremi Era un calcio di rigore Ma che traversa Ha preso Jonathan Golan Da 30 metri L'ha provato La traversa A dirgli no Intanto Davis Contro Arons Sfila velocisti L'ex Bayern è molto Piura però Di Arons Dembele di tacco Proprio verso Davis Ma Rogers In chiusura Stiamo a portare avanti La squadra Dietro da Gui Si è acceso però Il match Delle stadio da Luz Gui Boyd Giama a Luis Adesso Vada Marcus Edwards Entro per Turbo Chiare 1-2 a Edwards Ma non possiamo servirlo Perché lo segue Ranch Allora Turbo Anche lui da fuori Ter Stegen a dire di no E poi la blocca In due tempi Però ci stiamo provando Con i titi da fuori aria Visto che loro Si chiudono molto bene E prima traversa E poi paratona Da parte di Ter Stegen Ter Bull Doyle Fargo verso Rogers Che va da Golan Contro Pamecanolo Chiude quest'ultimo Perfettamente Lex Lipsy e Monaco Adesso Dembele De Jong Dominguez De Jong Ranch Un po' di spazio per lui Sulla fascia destra Mi approfitta E passa su Edwards Poi non riesce a passare su Luis Ma palla che arriva Comunque al capitano De Jong E Boyd Perfetto in chiusura Edwards Sbaglia Sbaglia l'appoggio semplice De Jong la lascia passare Per Valverde Adesso Marcos Paolo Contro Doyle Marcos Paolo Prova a passare su Tommy Doyle Largo per Davis Che la tocca di era Ancora il Marcos Paolo Passa per Valverde E c'è il vantaggio Barciano al 29esimo Con Federico Valverde Che realizza Se non erro Quello che è il Secondo gol In questa competizione Va avanti il Barca Vanno avanti i Blaugrana Con Federico Valverde Alla prima occasione De loro partita Ci abbiamo provato Dove volte noi Da fuori area Stavolta però L'uruguaggio È impecchiabile Va avanti il Barcellona Adesso concentrazione Perché i nostri Bantams Stanno giocando bene Non abbiamo mai sofferto E dunque Non dobbiamo assolutamente Perdere la nostra Concentrazione Tra l'altro Percorso del Barcellona Che è stato abbastanza interessante Visto che Si è piazzato secondo Nel proprio giro Nel gruppo A Dietro il Bayer Leverkusen Dove era affrontato Anche inizio E le Poznan Affrontato negli ottavi di finale Il Paris Saint Germain Il primo gol per Valverde Non il secondo In questa competizione Affrontato negli ottavi di finale Il Paris Saint Germain Passando per 4-3 Nel parziale totale Abbattuto poi il Barcellona Ai quarti di finale Con un risultato Totale di 4-2 Per affrontare poi Nuovamente Il Bayer Leverkusen Stavolta ora passando Visto che Li stiamo affrontando Qua in finale Arons Doyle Cerca qualche spazio Valverde lo chiude Con un fallo netto Giallo per l'uruguaggio Che dopo la gioia del gol Stavolta Si pecca questa munizione Giustissima Punizione per noi Il nostro Bradford Sta comunque giocando Doyle Si mezza parte sua A cercare Kai Cook Anticipato da Dominguez Rogers con la testa Impreciso Perché c'è Marcos Paolo in chiusura Fatei Valverde Davis Lungolino a Valverde Ancora Alfonso Davis Marcos Paolo Davis nuovamente In accelerazione contro Rogers Bravissimo Morgan in chiusura Allora Turbul Buona per Doyle Cook tra le linee Servito Si inserisce Golan Lo circa Kai Va Jonathan Jonathan è passato Golan La pareggia il golem Al trentottesimo Subito La risponde Risponde presente Il Bradford Con l'inserimento A parte di Jonathan Golan Ma che palla Dato Kai Cook Che nelle partite decisive Lo zampino Ci promette sempre Che sia un assist Che sia un gol Lo chef Cucina sempre Cucina sempre benissimo Le partite decisive Bravissimo Golan Però a passare in velocità Su Pamecano Che non lo regge Così come non lo regge Timber E poi Vita facilissima Ormai lo conosciamo il golem E' veramente un cecchino A tu per tu Con il portiere avversario Ter Steng non può nulla Esulta Mr. King 1-1 Abbiamo pareggiato i conti Prima finale europea Per il nostro Bradford Nella sua storia Anche perché Ha solamente un'apparizione europea Nella coppa intertoto Dell'annata 2000-2001 Dove è stata eliminata In semifinale Dallo Zenith La nostra squadra Il corso è abbastanza strano Abbastanza strano Terbull Arons Tommy Doyle Buona per Terbull Gioga largo Verso Jamal Lewis Edwards in fuori gioco Allora Lewis va nuovamente Da David Terbull Cambia gioco Verso Max Arons Mette giù E va da Golan Contro Timber Mettere in possesso E va da Arons Rodgers Rientra all'offside Viene servito adesso Morgan Rodgers Cross in mezzo A cercare Terbull sul secondo Dupa Megano capisce tutto E poi da il combatte contro Battaglia Ma quest'ultimo alla meglio De Jong Primo tempo che sarebbe terminato Infatti finisce così Su un risultato di 1-1 Tra Bradford e Barcellona Partita non spettacolare Ma comunque divertente Dunque si parte per la seconda frazione D'Alberg Che miracolo che ha fatto Qui su Marcos Paolo L'ex Tottenham In questo salvataggio Giraguay Providenziale in chiusura Ex Arsenal Conosce comunque Il calcio inglese Conosce L'approccio delle squadre inglesi A queste partite Dembélé Vediamo se la gioca vicino Proprio verso il nevo entrato Gnabry Così fa Ca in chiusura Ancora corner Per il Barcellona E ancora Dembélé Pronto alla battuta Ancora vicino a Gnabry Però Stavolta Doyle in uscita Gnabry dietro Su Dominguez Esce Turbul Ex Bologna Va da Upamecano Dentro per Batey Pergo verso Gnabry Gnabry dentro Per Valverde Doppietta Di Federico Valverde Che non ha segnato Nessun gol Fino a questa finale In questa finale invece È la spina del fianco La nostra difesa 2-1 Barcellona Ancora Federico Valverde Però la nostra difesa Si sta comportando Abbastanza male Perché lascia troppi spazi Tra centrocampo E attacco Per il Barcellona Infatti I due gol sono arrivati Proprio dal centrocampo Che ha tanta tanta libertà Do uno per il Barça Quindi tutto da rifare Per i nostri Bantams Dopo inizio Secondo tempo Veramente da incubo Con il Barcellona Che Sta attaccando La grandissima Rodgers Doyle Turbul Passa su Dominguez Che ha provato a stenderlo Ma vada che è Cucca adesso Buona per Golan Che lo prova con il destro Respinto la Upamecano Era perfetta La conclusione La parte del Golem Gnabry Dietro la Davis Prova Trovare qualche spazio Bravissimo Morgan Rogers In chiusura Si appoggiava verso Tommy Doyle Dentro per Golan Buona per Turbul Si muove Kai Cook Anzi si muove anche Marcus Edwards Che pareggia i conti Al sessantatresimo Che finale di stagione Per Marcus Edwards Che ha deciso La finale di FK E forse decide Anche questa finale Di Champions 2 a 2 Risponde subito Presente il Bradford Stavolta Con l'esterno sinistro Marcus Edwards Ma che palla splendida Da parte di Turbul In realtà Alzo i mani Volevo passarla A Kai Cook Che era solissimo Ma grande intenzione Da parte dello scozzese Che trova Con i tempi giusti Marcus Edwards Che da lì Non sbaglia 2 a 2 Pareggiamo i conti Tutto a rifare per il Barca 2 a 2 All'esterno da Luz 2 a 2 dunque Al sessantatresimo Il Barcellona Che Fa un po' fatica A marcare i nostri esterni E noi abbiamo approfittato Con Marcus Edwards Che segna il primo gol In questa Champions Per Bull Boyd Giamma Lewis Va da Marcus Lungo linea Ancoraggiamo al dietro Boyd Qui Arons Passare su Gnabry Va da Doyle Così che non è molto bene Guardate come Sono quasi tutti dietro All'inizio del pallone Rogers largo Posizione regolare Rogers contro Davis Entra qui Morgan Rossi in mezzo A cercare David Hurbull Anticipa la cupa Meccano Poi Doyle contro Bataille Alla meglio il francese De Jong Largo verso Ranch Sbaglia totalmente L'intervento Qui Luis Ranch contro Edwards Entra di my range L'impallo che serve L'impallo che serve Mette il pallone A battaglia Ma non usciamo in qualche modo Con Rogers Terbull Terbull Va da Luis Fortunati qua a noi Meno male Meno male Luis Torna dietro La Boyd Con la Più totale Tranquillità Wey Arons Rogers Da Golan Inserito Ackman Non possiamo andarci Perché è marcato Previamente da due Però Golan Deve mantenere il possesso In qualche modo Bravissimo Andare dietro Da Arons Doyle Terbull Argo verso Luis Tutti chiusi dietro loro Jamal Boyd Wey Arons Non sappiamo cosa fare Perché loro sono Scherati benissimo Dietro Allora Doyle Nuovamente da Luis Terbull la chiama E dunque lo serviamo Ma palla bruttissima Parte di Jamal Luis Il palla che ha dato Jamal Dembélé Dentro per Gnabry Jamal Luis Lo deve stendere Anzi era Ranch Ma Giusto così Giusto il fallo Tattico Da parteggiamo a Luis Che ha dato un pallone Inguardabile Per Terbull Ma non è la prima volta Che lui fa questa uscita In queste partite Ricordiamo contro il Milan All'ultimo secondo Perdo un pallone clamoroso E regala praticamente Il pareggio Ai rossoneri Intanto cambio per loro Perché entra Ermida Lorenzo Ermida Al posto di Batei Cambio tra Rigen Funizione per loro Con Dembélé Che la scodella è mezzo Di testa Luis Verso Ackman Dietro Per Terbull Però è da solo Aspetta qualcuno Va da Luis Attenzione ad Edwards Che si inserisce Però c'è Upamecano È un animale È un animale Upamecano Ter Stegen Rischia Però c'è Dominguez De Jong Valverde Accelerà E va da Davis Buona per Gnabry Valverde De Jong Chiuso la Terbull Allora dentro Per Golan Edwards Non parte Non parte Edwards E poi Golan perde il pallone Ermida Valverde Largo verso Gnabry Buona per Valverde Sezioni minuti di recupero Ermida Dentro per Dembélé Pontus Al 91esimo Ma lì Edwards Doveva scattare Aveva una prateria davanti L'abbiamo aspettato Non ha fatto un movimento Marcus Bravissimo Pontus Però Su Dembélé Corner per loro Si soffre maledettamente De Jong Vediamo cosa fa Cross in mezzo Da parte sua Rodgers Non ci arriva Dominguez Si E c'è il gol Al 91 e 30 Da parte Nicolas Dominguez Il Barcellona Vince La Champions League All'ultimo secondo Con Nicolas Dominguez Di testa Su Morgan Rodgers Ci sono tanti Tanti centimesi Di differenza Ma a quanto pare Non contano Allora 3 a 2 Barcellona Il sonno Champions League Va a farsi benedire Peccato Peccato davvero Per una partita Straequilibrata Anzi Tra Boyd E Rodgers Riesce a prendere Questo pallone Incredibile Incredibile Colpo di testa Che non era neanche Irresistibile Per Pontus Dalberg Ma la palla È entrata È entrata Ci potrà arrivare Tranquillamente Pontus 3 a 2 Barcellona E dunque Perdiamo questa finale Di Champions League All'ultimo secondo Il Barcellona Vince La Champions Anche perché Non c'è più tempo Il 94esimo adesso E dunque Nulla da fare Vince il Barça 3 a 2 Partita bella Molto equilibrata E si spegne Il sonno di tripleta All'ultima partita Ma ci sta Ci sta Ci sta assolutamente C'è tanta mare in bocca Perché comunque La partita ce la siamo giocata A volta aperto Abbiamo anche Avuto dei momenti Dove siamo stati Nettamente meglio noi Rispetto al Barça Ma all'ultimo secondo La testa di Lominguez Non era accordo con noi Vince il Barcellona Tanta mare in bocca Ma comunque soddisfatti Nei nostri 7 anni Stupendi Tra emozioni e delusioni Sicuramente la più grande Questa Finali Champions Contro il Barça Ma soddisfatti I nostri ragazzi Che ci hanno portato Ci hanno fatto portare a casa Due trofei importantissimi L'F Cup E la Premier League Quindi alzerà al cielo De Jong La coppa delle grandi orecchie Per il Barcellona Che vince per la sesta volta Nella sua storia La Champions League Questa Non meritatamente Perché comunque La partita sta equilibratissima Decisa da Da quelli che sono stati Gli episodi Perché alla fine Ha deciso un episodio Ossia il colpo di testa Di Dominguez E l'alza dunque L'olandese Frankie de Jong Corona Il Barcellona Sul tetto D'Europa Perdiamo 3 a 2 Ed eccoci qua Con un po' di amare in bocca Però Eccoci qua Ci mettiamo la faccia Anche in questi casi Perdiamo dunque Questa finale di Champions League 3 a 2 Contro il Barcellona Eh Fa male Perché fa male Perché comunque L'ultima partita della carriera Uno vuole sempre vincerla Però Ovviamente Non Non tutte le ciambelle Escono con il buco Purtroppo Perdiamo questa Anche in Champions League Ma Ciò non toglie L'immensa soddisfazione D'aver portato questa carriera Almeno dal mio punto di vista È stata una soddisfazione enorme Che sia stato il progetto Insieme alla carriera Giramonde L'anno scorso Più ragionato Che abbiamo portato All'interno di questo canale Sono veramente fiero Del percorso L'abbiamo fatto insieme 9 mesi e mezzo Perché siamo partiti D'ottobre Abbiamo chiuso qui A metà luglio Che hanno fatto Crescere il canale Hanno Alimentato sempre di più Il vostro supporto Alle miei confronti E io vi ringrazio Vi ringrazio veramente Dal primo all'ultimo Ringrazio chi Ha recuperato I video su youtube Chi è partito Con questo Bradford Chi ha chiuso Con questo Bradford Chi ha visto Magari solo il primo episodio Chi invece ha lasciato Verso la fine Chi invece ha lasciato Verso la metà Chi ha lasciato Sì dall'inizio Ringrazio veramente tutti Siamo stati speciali Dal primo all'ultimo Ci siamo divertiti tantissimo Perché questo c'è da dire Ci siamo divertiti tantissimo Con il nostro Con la nostra ossessione Del realismo Con la nostra follia Nel ricercare le regole Che permettessero Alla carriera Di essere il più realistica Possibile Alla fine La nostra ossessione Del realismo Ci ha portato a perdere Anche la fine Di Champions League Al primo anno In questa manifestazione Calcistica Purtroppo è andata così Però spero Che si sia visto Comunque il mio Il mio attaccamento Alla carriera La mia voglia La mia volontà Di portare Contro a livello Spero si sia visto Anche dal fatto Che mi sono Fatto tutti sti fogli Per questa fine Di Champions League Che tiro Lancio Come se fosse la fine L'esame di maturità Per portarvi Anche al culturale Sempre presenti Al mio moderatore Gigi Che mi ha supportato Dal giorno 1 Che ha moderato La chat Sempre in maniera Esemplare Che mi ha dato consigli In privato Che veramente Sono stati oro Per il proseguo Di questa serie E ringrazio E ringrazio anche I vari RG Simo Pixel Pietro Edo Ringrazio veramente Tutti Ovviamente sto facendo Il nickname Di chi c'è sempre stato E quanti me li dimentico Quanti Alex Quanti me li dimentico Che hanno supportato La carriera Veramente dalla prima live Fino all'ultima Grazie Grazie Veramente a tutti Però non si chiude qua Perché ci saranno due speciali Il primo uscirà L'undi prossimo Dove andremo a vedere Che fino hanno fatto I vari giocatori In questa carriera Tra ritiri Trasferimenti Esplosioni di giovani Dalenti E così via E andremo a vedere anche Tra due lunedì Quindi non quello che viene Nella prossima Ma quello ancora dopo Comunque tra due settimane Le varie statistiche Di tutti i giocatori In questa carriera Quindi gol Assist Reding violate Partite giocate E così via La carriera Parte finale Con l'Islanda Non si farà Il mondiale con l'Islanda Non si farà Un po' troppo forzato Prima di tutto E poi non ci abbiamo Creato comunque Una storia attorno All'Islanda E Secondo me Non avrebbe neanche Tanti interessi Sia da parte mia Che da parte vostra Comunque portare qualcosa Di forzato Eviterei assolutamente Anche su Twitch Però non ci fermiamo Perché per almeno Tre settimane Andremo a portare Contenuti diversi Dal solito Dal just chatting A giochi diversi Per esempio Porteremo sicuramente Senso non mi dubbio NBA 2K Ti avrei avviso però Che mi prendo Due settimane di pausa Quindi due settimane di pausa Complete Che servono sicuramente Per ricarburare E non andare in burnout Visto che tra università Impegni vari E comunque live su Twitch E montaggio video di YouTube Probabilmente sempre da fare Quindi ho necessità Di staccare per due settimane E vi ricordo anche Di seguirmi su Instagram Importantissimo Importantissimo Perché in quelle settimane Dove magari non sarò attivo Qua su Twitch E su YouTube Sarò attivo sicuramente Sugli altri social E tra l'altro Cosa che non ho detto Sono anche presente su TikTok Però lì su TikTok Porto dei contenuti Diciamo non da TikTok Un po' più ragionati Dove parlo anche Delle mie varie passioni Musica Streetwear In particolare sneakers E basket Quindi se volete Conoscermi anche Per altre cose Potete trovarmi anche Su TikTok Trovate tutti i link In descrizione Nel commento Fissa in alto Vi aspetto veramente Su tutti i social Noi ci vediamo alla prossima Ragazzi Grazie ancora Grazie a tutti Per questi 9 mesi e mezzo Stupendi Alla prossima Un bacione Grazie a tutti